Restituito oggi ai familiari il corpo del piccolo Sebastien Lupescu, il bambino di nazionalità romena residente a Naro, morto giovedì pomeriggio al Policlinico di Messina per avvelenamento. Volontà dei genitori sarebbe quella di trasferire la salma nel loro paese di origine. Intanto, in attesa di riconoscere gli esiti dell'autopsia, emergerebbero nuovi particolari. Secondo i sanitari del nosocomio messinese, nei cioccolatini ingeriti dai tre fratellini, sarebbe stato messo un potente pesticida, sostanza che secondo gli inquirenti sarebbe presente anche nel vino. Ricordiamo che tre fratellini lo scorso 8 marzo avevano mangiato i cioccolatini da una scatola trovata in un sacchetto lasciato dai gnoti davanti la loro abitazione. Nella busta era contenuto anche del vino. Intanto, la procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta contro i gnoti per omicidio. Probabile che l'autore del gesto volesse colpire il capo famiglia, ma al momento non è esclusa nessuna ipotesi e le indagini proseguono a 360 gradi.